Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo nuovissimo Leica Ecovip 3109, un camper di 6,99 letti singoli. Su questa pianta la Leica ha due modelli, entrambi li potete vedere nelle nostre schede. Per vedere le caratteristiche di questo camper con dimensioni, prezzo, prezzo chiave in mano, abbiamo sia il prezzo di listino per equipararsi a tutti gli altri, prezzo chiave in mano che vi serve a voi. Poi iscrivetevi al nostro canale e cliccate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei filmati di abitabilità, su quelli di Nicoletta del negozio e su quelli di Andrea dell'officina. Qua è, guardate com'è grande, questo garage. Ci vado dentro come sempre. Eccomi qua, qui sotto le dimensioni per capire l'ingombro del garage. Qui, come potete vedere anche a occhio, potete metterci biciclette, una motocicletta, sedie, tavoli, acqua, vino e quant'altro vi potete portare. E ora andiamo al suo interno. Qua è la caratteristica, questo Laika è, cioè, la caratteristica Laika è veramente la pulizia delle linee. Vedete com'è elegante e caratterizzato. Andiamo al suo interno. Una bella porta, la zanzariera, quindi un bel accesso, la maniglia per salire. E qua, come sempre, una bella zona giorno. Una zona giorno che permette di stare con questo bel tavolo tondo, anche a livello ricreativo, una, due, tre, quattro, cinque, sei, anche fino a sette persone. Le quattro persone ci stanno comode in quanto due e due fronte marcia dalla parte passeggero. Molto luminoso, la finestra a sinistra, un bello blu in alto, la sua finestrina sul lato destro con la finestra sulla porta e la luminosità del motorhome che è unico. Guardate, con questa luce e col sole al tramonto, guardate com'è molto caldo e accogliente come camper. Qua, uno sportellino che sfrutta questi piccoli spazi sia a destra che a sinistra, poi buttando giù gli schienali, come tutti i motorhome, si sgancia e va giù. Eccomi qua. Qui c'è la plastica per cui usci molto tranquillamente e mi metto subito a letto. Eccoli qua. Ora sto un po' attento. Quindi c'è una bella larghezza, c'è il suo blu, c'è il panno sul soffitto, così permette sia un miglioramento dell'isolamento termico, sia soprattutto un miglioramento anche dell'insonorizzazione, perché quando piove nel campo si sente. Qui con questo panno riusciamo ad avere in certe situazioni, quando piove piano è veramente bellissimo, invece quando piove un po' più forte il pannello è molto importante. E poi, velocemente, si riporta su, si mette gli schienali, si tira su gli schienali delle poltrone e questo qua. E quindi pronto, ecco qua, pronto per la zona giorno. Parte servizi, parte servizi, c'è questo pianetto di appoggio, i tre fuochi e un bel lavello, guardate com'è bello profondo. Con il suo piano, che può essere o un tagliere o fa da piano d'appoggio. Belle cassettiere, una e una, due. Frigorifero, con congelatore. Un pensile. E qui un altro bel contenitore che, insomma, serve sempre. La parte notte si divide con la porta davanti e dietro. Eccomi qua. Mettendo, chiudendo, ci siamo, sì, siamo tranquilli in camera. Per accedere alla parte posteriore dei due letti, c'è una cassettiera, che poi serve anche come contenitore, sia qui che di qua, e si sale su. I due letti sono presto a poco uguali, quindi io sono un metro e ottanta e ci sto tranquillamente. Qua, gli sportelli che girano da tutte le parti. Finestra destra, finestra sinistra e obblò. Questo letto, come vi ho sempre spiegato, può essere usato o con due singoli, e quindi il matrimoniale e quattro posti, oppure, mettendo questa giunta in questa posizione, diventa un grandissimo matrimoniale che può essere usato singolo, 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 in tre, oppure per traverso. Poi, qui sotto, i contenitori, questa è una cassettiera, e poi quest'altra, chiudendo lo scalino, si apre e qui c'è un armadio sul lato destro e una cassettiera sul lato sinistro. E qua, lo spazio bagno. Allora, lo spazio bagno, allora, non è certo, lo tengo chiuso perché, se no, non potete vedermi, però questa è la posizione evata, e quindi immaginatevi la porta qui, quindi non dà noia. Questa è la posizione del lavandino, che è bello profondo. Qui, contenitori, e poi un contenitore anche sull'assù in alto. C'ha oblò e finestra. Per far la doccia, eccolo qua, uno, e uno, due. Quindi, una doccia molto grande. Ora, la vedete così? Ve lo faccio vedere. Vedete che mi ci muovo bene. Pensate che a questa ingombro qui, quindi, ci si muove veramente bene. Qui c'è l'appendi abiti, che se avete le cose bagnate potete mettere qui, così con la doccia scaricano in terra. Ma com'è? Chiudo? Eh? Chiudo? laminato bianco, che permette di dividere il bagno alla zona servizi, zona giorno. E questa, invece, è la porta che divide la zona notte alla zona bagno, alla zona servizi. E così, semplicemente, si richiude. Quindi, se vi è piaciuto, venitela a vedere, perché l'emozione che vi può dare entrando dentro questo campe è veramente unica. E, come sempre, ha grandi prezzi e servizi caravambacci. Ciao! Ciao!